Imbarcazioni di scafisti sarebbero partite dal porto di Gela o dalle coste dell'Agrigentino per raggiungere la Tunisia e far immediato rientro con il carico di migranti. E' quanto emerso dall'operazione Mare Aperto della Polizia di Caltanissetta che ha sgominato la banda e seguendo 18 misure cautelari per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I destinatari del provvedimento sono 11 tunisini e 7 italiani. Il GIP ha disposto il carcere per 12 di loro e gli arresti domiciliari per gli altri 6. Se ci fossero stati problemi come un'avaria al motore, gli scafisti avrebbero potuto sbarazzarsi dei migranti in alto mare. Era l'indicazione data dagli organizzatori e gli scafisti che partivano dalla costa meridionale della Sicilia per prendere migranti in Tunisia e portarli nell'isola. E' quanto emerge da intercettazioni inquietanti agli atti dell'inchiesta Mare Aperto. 6 dei 18 destinatari del provvedimento del GIP di Caltanissetta sono ancora irreperibili perché probabilmente all'estero. Un indagato è stato individuato a Ferrara grazie alla collaborazione della squadra mobile del luogo. Gli altri sono stati arrestati in Sicilia, 8 a Caltanissetta e 1 a Ragusa. L'indagine è stata avviata il 21 febbraio del 2019 quando all'imbocco del porto di Gela si era incagliata una barca in metro resina di 10 metri con due motori da 200 cavalli. La presunta associazione per delinquere specializzata in viaggi per migranti avrebbe avuto punti strategici dislocati in più centri dell'isola come Scicli, Catania e Mazzara del Vallo. avrebbe impiegato piccole imbarcazioni munite di potenti motori fuori bordo condotte da esperti scafisti che avrebbero operato nel braccio di mare tra le città tunisine e le province di Caltanissetta, Trapani e Agrigento così da raggiungere le coste italiane meno di 4 ore. Secondo l'accusa avrebbero trasportato dalle 10 alle 30 persone per volta esponendole a grave pericolo di vita. Il prezzo a persona pagato in contanti in Tunisia prima della partenza si sarebbe aggirato tra i 3.000 e i 5.000 euro e presunto profitto dell'organizzazione criminale secondo stime investigative si attesterebbe tra i 30.000 e i 70.000 euro per ogni viaggio.